La storia della Ferrari è un'epopea affascinante che inizia con il suo fondatore, Enzo Ferrari, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'automobilismo. Nato il 20 febbraio 1898 a Modena, Italia, Enzo Ferrari ha sviluppato fin da giovane una passione smisurata per i motori e la velocità. La sua carriera nel mondo dell'automobilismo inizia negli anni 20, quando entra a far parte della squadra di corse Alfa Romeo come pilota. Tuttavia, la sua vera vocazione si rivela essere quella di costruttore e nel 1939 fonda la Autoavio Costruzioni, che in seguito diventerà la Ferrari. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Enzo Ferrari decide di creare la propria casa automobilistica, la Scuderia Ferrari, nel 1947. La sua visione era quella di produrre auto sportive di prestigio e alta performance, sia per le competizioni in pista che per la strada. La prima vettura Ferrari, la 125 S, fece il suo debutto nel 1947 e dall'ora in poi il marchio Ferrari divenne sinonimo di eccellenza nel mondo delle corse. Negli anni 50 e 60, la Ferrari dominava le competizioni automobilistiche di Formula 1, vincendo numerosi campionati mondiali piloti e costruttori, con leggende del calibro di Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio e Phil Hill al volante delle sue vetture. Inoltre, la Ferrari ha ottenuto vittorie prestigiose nelle gare di durata come la 24 ore di Le Mans. Nel corso degli anni, la Ferrari ha continuato a innovare e a produrre auto iconiche come la Ferrari 250 GTO, considerata una delle vetture più desiderabili al mondo. È la Ferrari Testa Rossa, un simbolo degli anni Ottanta con il suo design audace e le prestazioni mozzafiato. Oltre alle competizioni, la Ferrari ha ampliato il proprio ambito produttivo introducendo auto stradali di lusso. Tra queste spicca il modello La Ferrari, una supercar ibrida che rappresenta l'apice dell'ingegneria automobilistica contemporanea e che, curiosamente, prende il nome della stessa casa produttrice. La ricerca incessante della perfezione tecnica ha portato la Ferrari a sviluppare tecnologia all'avanguardia, sia per le auto da corsa che per quelle stradali. La costante sfida per migliorare le prestazioni e la guidabilità ha spinto gli ingegneri Ferrari a esplorare nuovi materiali, sistemi di produzione innovativi e design aerodinamici all'avanguardia, mantenendo così il marchio sempre al passo con i tempi e in cima alla classifica delle case automobilistiche di lusso. Oltre alla produzione di auto, la Ferrari ha esteso il proprio marchio a una vasta gamma di prodotti e servizi che vanno dalle linee di abbigliamento e accessori al merchandising dedicato agli appassionati, fino alla gestione di parchi tematici e club esclusivi per i suoi clienti più fedeli. Questa diversificazione ha contribuito a consolidare ulteriormente il leggendario status della Ferrari come simbolo di prestigio e successo in tutto il mondo. La morte di Enzo Ferrari nel 1988 non ha indebolito il marchio, che è rimasto un'icona del lusso, della velocità e della performance. Oggi la Ferrari continua a produrre alcune delle auto più desiderate al mondo, mantenendo viva la passione e il fascino che hanno caratterizzato la sua storia fin dall'inizio.